Per le fratelli, un saluto amichevole, fraterno. Iniziamo questo culto ricordando questa parola. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Se noi viviamo questo momento di culto con fede, lo viviamo nel segno della vittoria. E' con questo pensiero che ci possiamo dire gli uni agli altri, gli uni alle altre, grazia, misericordia e pace da Dio Padre, da Cristo Gesù nostro Signore, per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Dice il salmista, mostraci la tua bontà, Signore, e concedici la tua salvezza. Io ascolterò quel che dirà Dio il Signore. Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornino ad agire da stolti. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. La bontà e la verità si sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Anche il Signore elargirà ogni bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a Lui e seguirà la via dei Suoi passi. Ti raccogliamo in preghiera. Signore nostro, facciamo nostre davanti a Te le parole del salmista. Mostraci la tua bontà, una bontà che non è soltanto uno slancio sentimentale, ma è la salvezza, la tua gloria che può abitare nel nostro paese. Una bontà che si manifesta nell'incontro con la verità, nel fatto che la giustizia e la pace si bacino. In un mondo in cui per ottenere giustizia è necessario lottare e la pace si ottiene soltanto qualche volta a prezzo di ingiustizie, tu sei presente con noi e ci annunzi che è possibile invece che giustizia e pace si bacino. Quando giustizia e pace si baciano, è un bacio che riceviamo da Te, dal Tuo amore che risplende in Cristo. Amen. Grazie a tutti i nostri amici. 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 l'unica cosa che potremmo chiamare in senso figurato sacrificio è la lode di Dio che esce dal nostro canto e dalle nostre preghiere. Una predicazione dunque, un sermone. E al termine di questo capitolo un commentatore dice in modo un po' scherzoso che quando giungiamo al termine di questo bel capitolo non possiamo fare a meno di ammirare il modo esemplare con cui l'autore sa non solo mettere insieme ma legare in modo organico le parti teologiche e quelle esortative della sua predicazione. Ha annunciato che Cristo ha offerto se stesso in sacrificio per noi una volta per sempre è la parte teologica e poi quello che abbiamo letto oggi è la parte esortativa. Il nostro commento continua dicendo l'autore pare che abbia capito che un sermone solo dogmatico che parla solo di quello che Dio ha fatto per noi. Permone solo dogmatico corre il rischio di stufare chi ascolta mentre un discorso solo moralistico rischia di annoiare e cosa assai più grave rischia di mettere in ombra i fatti fondamentali della rivelazione da cui derivano i principi e la forza della vita nuova. Dunque l'autore dell'epistola agli ebrei sa come si fa un sermone sa come si legge la Bibbia che è sempre evangelo e legge. Da un lato l'evangelo il buon annunzio di quello che Dio ha fatto per noi e poi la legge di quello che Dio chiede da noi. Chi ha ascoltato il culto di domenica scorsa ricorderà che al centro è l'annuncio che Dio è amore, l'Evangelo, e poi c'è il richiamo amatevi gli uni gli altri, la legge. Ebbene nel testo di oggi l'autore dopo aver enunciato appunto l'Evangelo della grazia di Cristo per noi dice la legge, dice l'esortazione, ricordatevi dei primi giorni in cui dopo essere stati illuminati voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. L'autore pensa dunque che i suoi lettori siano stati perseguitati. E ricordatevi che questo è capitato dopo che siete stati illuminati. I commentatori sono d'accordo sul fatto che questa allusione all'illuminazione è un'allusione al battesimo. Noi purtroppo pratichiamo in generale il battesimo degli infanti, e quindi chi è battezzato non si rende neanche sempre conto del fatto che il battesimo ha il senso di una illuminazione da parte di Dio. Soltanto se Dio ci illumina possiamo chiedere di essere battezzati. Quando si è bambini non ci si rende conto sempre di questo. Per questo le chiese protestanti hanno inventato il ritmo, il rito della confermazione, che è come la conferma appunto del battesimo. Perché quando uno chiede di essere confermato nel proprio battesimo, chiede in fondo di tradurre il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in una illuminazione personale che porta alla fede. L'autore dunque dice «Ricordatevi del vostro battesimo, che ha segnato l'inizio di un combattimento duro, ma voi siete stati solidali con i carcerati. Avete accettato anche che vi rubassero i vostri beni, sapendo che possedete una ricchezza migliore e duratura. Allora dunque non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Siete stati illuminati, non abbandonate la vostra franchezza». E questo è introdotto da un ma. Sapete dunque che Cristo ha offerto se stesso in sacrificio, sapete che siete stati illuminati. Ma ricordatevi di questo. In realtà il testo greco ha una congiunzione che può essere meno dura. Per esempio potrebbe essere tradotta anche con poi. Ricordatevi poi che siete stati illuminati nel battesimo. Però forse la traduzione «ma» che è più forte è giusta, perché dopo che abbiamo ricordato l'azione e l'opera di Dio per noi è giusto essere un po' scrollati. Ma ricordatevi, ricordatevi che anche voi siete chiamati attraverso una vocazione santa a esporvi anche agli oltraggi, alle persecuzioni. Noi non siamo in una situazione simile, ma c'è il rischio che allora ci addormentiamo e l'illuminazione che viene dalla fede sia dimenticata. Allora ricordiamoci che c'è quel ma. Ma ricordatevi. Ma non siate smemorati. Ma cercate di essere coerenti con quello che è capitato quando vi siete convertiti all'Evangelo di Gesù Cristo. Non siate di quelli che si tirano indietro la loro perdizione, ma siate di quelli che hanno fede e che in questa fede sanno che hanno ottenuto la vita. Amen. «Han camminato lungo tempo verso la libertà, verso la luce per cercare sempre la verità». «Ascolta, ascolta, ma non fa alcun rumore, marciamo nella notte, ormai da molte ore». «Ascolta, ascolta, i passi del tuo Signore, cammina sulla strada, cammina insieme a te». «Han rifiutato ogni guerra, cercando pace ancora». «Han rifiutato ogni guerra, cercando pace ancora». «La loro terra han lasciato e canterà l'amor». «Ascolta, ascolta, ma non fa alcun rumore, marciamo nella notte, ormai da molte ore». «Ascolta, ascolta, i passi del tuo Signore, cammina sulla strada, cammina insieme a te». «Sono venuti col sorriso, aprendoti il loro cuore, hanno annunciato tra fratelli la legge dell'amor». «Ascolta, ascolta, ma non fa alcun rumore, marciamo nella notte, ormai da molte ore». «Ascolta, ascolta, i passi del tuo Signore, cammina sulla strada, cammina insieme a te». «Ci raccogliamo in preghiera». «O Signore, noi siamo inseriti in questo cammino del lungo tempo. E' un cammino che ci conduce alla libertà». «Il nostro testo di oggi inizia con un «ma» molto forte. «Ci invita a non essere smemorati, tu ci hai amati fino in fondo, ma questo non sia per noi qualcosa che ci addormenta sugli allori, sull'alloro tuo nemmeno. sia qualcosa che ci invita a riprendere un cammino, un cammino qualche volta lungo, ma un cammino in cui non siamo soli, un cammino che tu apri davanti all'umanità intera, un cammino che deriva dal fatto che tu ti hai riconciliati con te». «Dacci questa certezza e dacci di compiere questo cammino soprattutto nella preghiera, ripetendoti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. «Venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Nell'ora della tentazione, non lasciare che inciampiamo. Ma liberaci dal male, poiché a te appartengono per sempre il regno, la potenza e la gloria. Amen». Ed ora ci salutiamo con questa parola. L'Apostolo dice «Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio». Il Signore, nostro Dio dunque, sia con noi come fu con i nostri padri, non ci lasci e non ci abbandoni, ma ci faccia volgere i nostri cuori verso di Lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie, ora e sempre. Amin. 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 Amin.